Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e la Ferrotranviaria S.P.A. saranno citati come responsabili civili nel procedimento per il disastro del 12 luglio 2016 in cui morirono tra Andri e Corato 23 persone, 54 i feriti, in seguito a uno scontro frontale tra due convogli. E quanto previsto dal GUP del Tribunale di Trani Angela Schiralli, nel corso dell'udienza preliminare per il rinvio a giudizio a carico di 18 persone e una società, nel corso dell'udienza dell'11 settembre, le parti avevano presentato le loro istanze sulla citazione dei responsabili civili per i risarcimento a conclusione del processo penale. Nel processo quindi la Regione Puglia assume la doppia veste di responsabile civile e di parte civile. La Ferrotranviaria invece è anche parte imputata in qualità di persona giuridica. Infine è stato citato l'Ustif, si tratta di un'emanazione del Ministero dei Trasporti che quindi ne assume le responsabilità.